In questo video dunisiani andremo a fare un castello, cioè nel senso andremo a prendere i materiali per costruire il castello Perché io e i miei amici giochiamo in questo server e potete entrare anche voi da casa Prima di tutto sarete in modalità spectator, però per poter entrare in questo mondo e giocare insieme a me e ai miei altri amici Dovete venire sotto in descrizione, c'è il mio server discord, venite e mi scrivete, insomma scrivetela in quel server discord Che volete appunto entrare nel mio mondo, però dovete avere minecraft da pc in versione 1.16.1 Quindi in questo video andremo a prendere le risorse, no? Per costruire questo castello, un castello gigantesco, proprio una cosa, porca miseria Che dici, è enorme, un castello così grande non l'ho mai visto E quindi sicuramente piacerà a molti, però dov'è che andiamo a prendere queste risorse? Andiamo a cercare prima una miniera, no? Una caverna, una di quelle cavernone grosse Dove ci danno la cobblestone, perché ovviamente serve la cobblestone e servono anche altre cose, diciamo, no? Come per esempio degli oggetti del nether, ma non so se riusciamo a prendere tutto in questo video Anzi sicuramente tutto in questo video non riusciamo a prenderlo Però sicuramente ci possiamo provare, aiuto, si sta già facendo notte, perfetto Io direi già di togliere le shaders Guardate cosa ho trovato qui Ho trovato una caverna tutta buia, infatti adesso la devo illuminare correndo Prima che troviamo qualche strano essere maligno che ci voglia uccidere Perché voi dovete sapere che in queste caverne ci sono scheletri Ci sono zombie Ci sono cose inimmaginabili Proprio bestie Orribili, classiche di Minecraft Però cioè voi le conoscete, no? Cioè nel senso, chi è che non le conosce le bestie cattive di Minecraft E soprattutto la bestia più feroce è il buio Allora, andiamo Scusate, cioè veramente Io sono scioccato da me stesso Oh mio Dio No, scusa, scusa Eh, Creeper, non osare Non ti permettere, grazie Devo prendere i materiali per il castello Tu hai un castello Oh, forse è esploso proprio perché non ha un castello Beh, poteva farlo con noi, no? Cioè nel senso Creeper, potevi fare con noi il castello Cioè, che stupido che sei Cioè veramente Mi raccomando, eh, comunque se entrate nel mio mondo in Spectator Eh, potete entrare Ma ripeto, prima andrete in Spectator Cioè nel senso Non è che potrete giocare direttamente con me Perché prima devo fidarmi di voi Devo capire chi siete Perché magari, immaginate Se entra in V Che è un hacker, no? Che io ho avuto Se entra in V E io gli do il permesso di fare tutto quello che vuole Lui cosa fa? Mi distrugge il mondo Eh, non è, non è, non è bello Se mi distrugge il mondo Poi io cosa vi faccio vedere? Un mondo distrutto È un po' brutto Però, però So per certo Che voi vi comporterete bene E quindi Vi do la possibilità Di partecipare, no? A questo mondo La possibilità esclusiva Solo a voi duenisiani Ok, allora Chi si iscrive al mio canale? Iscrivetevi al canale Mi raccomando E iscrivetevi a questo canale Mannaggia GianGiuberto Secondo Perché ci sono stati più GianGiuberti Adesso siamo all'ottavo GianGiuberto Eh Però Quello secondo è stato quello più antipatico Tutti i GianGiuberti sono antipatici Ma il GianGiuberto secondo Porca miseria Voi non l'avete conosciuto Io Ho conosciuto GianGiuberto Quando ero praticamente Tipo Ero praticamente Nel 1347 Mi pare Se non mi sbaglio Poi mi posso sbagliare Perché sicuramente Ora la mia memoria Dagli anni che ho io Cioè 3748 Mi pare Anche là Perché Non è che mi ricordo molto bene Però comunque Sì diciamo che Circa Nel 1300 Diciamo Ho conosciuto GianGiuberto Secondo E quello là Era di un'antipatia Ma di un'antipatia Porca miseria Mi dava gli schiaffi Gli schiaffi Sì avete capito bene Gli schiaffi Ad Unis Non si danno gli schiaffi Come si permette quel GianGiuberto Secondo Di darmi gli schiaffi Poi cos'è che ho fatto Gliel'ho fatto a pagare Perché ho chiamato la strega No la strega del tempo E La strega Gli ha fatto un incantesimo E lui è volato Su alto nel cell E ha detto Oh Aiuto Aiuto Sto volando su alto nel cell E voglio scendere E cosa ha detto la strega Ok Allora ti faccio scendere E l'ha fatto scendere E è caduto E Ha fatto una brutta fine Diciamo Ecco Ha fatto una brutta fine Quindi Di mai Mai dare gli schiaffi a Dunis Allora Non lo so Cioè io penso di essere fuori di testa a volte Dalle storie che raccontano Sì però sti materiali Io non li sto trovando Perché voi dovete sapere Che devo prendere tanta pietra Ok Perché il castello lo faremo di pietra E io qua sto trovando molto ferro Questo è buono il ferro Sinceramente Ma Il castello avrà anche Dei meccanismi di redstone Voi sapete Cioè I meccanismi di redstone Per me sono Impossibile Straordinariamente Difficile Cioè nel senso Non li so fare Li devo copiare Anche a copiare Non li so fare Comunque Perché I meccanismi Cioè veramente La redstone Chi è che di voi Sa usare la redstone Io no Io no No Poi mi annoia Ad usarla Cioè nel senso Oddio Ma che caverna Stiamo trovando Scusate C'è pure Uno zombie Che ha deciso Di Di non voler più Vivere Allora zombie Sei troppo giovane Per morire Stai scherzando Stai scherzando Ops Potevo morire Sai Vabbè Oh caspiterina Caspiterina A me A mannaggia Gian Giuberto Non si vede niente Non si vede Minecraft Minecraft Devo Devo mantenere La pazienza Con Minecraft Perché Non è possibile Non si sta vedendo Niente Gian Giuberto Richiamiamo Gian Giuberto Secondo Eh Richiamo la strega Per caso La strega Clarabella Che bel nome Per una strega Però eh Cioè nel senso Era mia amica Cosa volete Anche voi Dunisiani Cioè veramente Io la chiamavo Clarabella Lei si chiamava Cristina Mi pare La strega Cristina Pure Pure Cristina Però Eh Clarabella È molto meglio No Cioè Come nome Direi che È un nome Veramente Favolosa Favolosa Ah 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 Ma Dio Cioè io veramente Devo essere ricoverato In un ospedale psichiatrico A quanto pare Vabbè Ehm Scherzo eh Non non Perché magari adesso Viene l'ambulanza No Mi porta Nell'ospedale No non devo Non devo Spero Vero Qualche psichiatra qua fuori Mi può dare una diagnosi Cosa Cosa ho La rincoglionitudine O la O la O il disturbo Da rinco Stupidità Assoluta Può essere Sai Può essere Nuovo disturbo Inserito nel manuale Statistico e diagnostico Di disturbi mentali Cioè veramente È il mio È il mio eh Questo Cioè proprio Proprietà di Dunis La stupidità Assoluta Allora A parte la stupidità Assoluta Io direi che I materiali Quali stiamo trovando Voi che Che dite Che dite Direi Di scavare Di trovare Però qualche Altra Miniera Più Oscura Più Paurosa Più Che nasconde Più segreti Dungeons E misteri Misteri talmente Tanto Misteriosi Che voi Esseri viventi Non potete Neanche Immaginare Non potete O creature Non potete Perché solo Dunis Ha visto Cose così Terrificanti In queste Caverne Buie Profonde E lunghe Che ti fanno Sentire Sempre di più Sempre di più Intrappolato E andando Sempre più avanti In queste Miniere Buie E Molto Profonde Vi sentite Come Se Qualcosa Intorno a voi Vi sta Camminando Dietro Sentite una Presenza Questa presenza Si sta facendo Sempre più Sentire In queste Caverne Però Però Decidete che è giunta L'ora di andarvene fuori Perché Questa caverna sta diventando Talmente tanto Pericolosa Perché Perché lo sentite Che Decidete di uscire Ed intanto Decidete anche Di iscrivervi Al mio canale Perché Sentite Proprio come Questa caverna Sempre Sempre più Bisogno Di iscrivervi Al mio canale E Iscrivetevi Mi raccomando Sono duni Sono simpatico E diventerò Famosissimo Proprio come Altri youtuber Molto famosi Che non nominerò Per Che Sono No perché Non voglio Perché non voglio Vedete ora Siamo in fondo In una caverna Profonda E Io Ora per esempio Mi sto cagando addosso Perché spero proprio Che non succeda Quello che ho detto Prima Io non voglio Sentire una presenza Intorno a me Non voglio Cioè nel senso L'ho già sentita In quella caverna Già stavo dicendo Oh mio dio C'è qualcuno C'è C'è Inv C'è Inv Perché a volte Dovete sapere Che a me vengono Le paranoie Per inv Perché Quello che abbiamo Vissuto su tiktok Anzi Io ho anche pensato Di mettere il seed Del mondo di tiktok Qua sul computer Per vedere Se inv Arriva oppure no Io ora non so Se arriva Possiamo provarci Così possiamo Vedere Possiamo capire Meglio Che cosa vuole da noi Perché Non lo so Su ipad Non si sta più Facendo vedere Io a volte sono entrato In quel mondo Ma non c'è più Secondo me O si è stufato Oppure Non lo so Sta cercando di passare Nel mio computer Non ne ho la più pallida idea Comunque adesso Oddio Adesso usciamo da questa parte Perché noi possiamo Uscire da questa parte Giustamente Molto bene Ed è notte E beh Certo Cosa vuoi farci Nel senso Vuoi che non sia notte Eh no E' impossibile Che non sia notte Gian Giuberto Secondo Ragazzi Mi sono perso Non so più dove Il campo base Quello dall'inizio No sapete Non so più dove è finito Almeno abbiamo raccolto Almeno abbiamo raccolto Un po' di materiali Utili per costruire il castello Ma se io non so più Ritornare a casa Come faccio Come faccio C'è uno zombie piccolo No Questo è pericoloso Eh Oh mio dio C'è stata C'è stata C'è stato C'è stato La salvezza C'è stata la salvezza Che schifo No vabbè Avete visto Questo zombie Zombino Zombino piccolino E' antipatico Proprio come Come gli zombie No allora Scusate Facciamo una petizione Su minecraft Per non far più Avvicinare Gli zombie piccoli A Ai giocatori di minecraft Intanto io continuo A dare i colpi Al microfono No perché sono Uno youtuber Molto bravo Però Però Scusate Poi sono uno youtuber Molto bravo Perché sto facendo Il video Durante la notte Di A Aspettiamo il giorno Ho ritrovato Il campo Base Ho ritrovato Il campo Base Vabbè Comunque Dicevo Firmiamo una petizione Tutti quanti insieme Per far togliere Gli zombie piccoli Da minecraft Che sono la cosa Più Fastidiosa Che possa Esistere In questo mondo E' la cosa Più fastidiosa Quella di più Quella che fa Più schifo Boo Zombie schifose Piccoli Gli zombie grandi Almeno si possono colpire Gli zombie piccoli No E questa è la cosa Che mi da Fastidio Mi da Fastidio Giangiuberto Secondo Proprio lui E anche Giangiuberto Ottavo Non ne parliamo Vi guarda Giangiuberto Ottavo Non ne voglio parlare Perché è quell'imbecille Guarda Quell'imbecille Sapete cosa ha fatto Quell'imbecille Ultima Perché adesso C'è Giangiuberto Ottavo Con cui io ci parlo E lo odio Pure a lui Lo odio Lo odio Con tutto il mio Corazon Corazon Come si dice Perché Perché quel Giangiuberto Ottavo Mi ha lanciato Super aria E io Cos'è che ho dovuto fare Sono dovuto Atterrare No In un qualche modo Però per fortuna C'era la strega Clara Bella Che mi ha fermato All'ultimo Mentre io stavo per cadere Lei ha fatto tipo E mi ha fermato Così in aria E poi ha fatto tipo Così no Come Eleven A Giangiuberto Ottavo L'ha spinto via Tipo così E quindi L'ha spinto via Praticamente Cioè Voi non avete idea Di com'è Giangiuberto Ottavo E' una cosa Orribile Ma infatti E' per quello Che io lo insulto Sempre nei video Non è possibile Giangiuberto Ottavo Perché poi Lui ha fatto tipo E mi ha lanciato in aria Io come caspita faccio Per fortuna Che ho sempre La mia amica Clara Bella La strega Che mi aiuta Porca miseria Giangiuberto Ottavo Dai Eh Ma io veramente Non so Peggio di Giangiuberto Secondo Quasi Giangiuberto Secondo Guarda che era Una peste Ma Giangiuberto Ottavo Oppure Cioè Sinceramente Ora Stam facendo A gara E di chi E' il peggiore Adesso devo chiedere Di nuovo Alla mia strega Clara Bella Alla mia amica Strega Clara Bella Di fargli Qualche incantesimo Di bloccarlo In una specie Di prigione Non lo so Di campi Energetici Non so Quello che fanno Le streghe E Perché Non è Non è possibile Altrimenti Dunisiani Cioè Veramente Io guarda Io devo farvi Vedere un episodio Dove c'è Giangiuberto Ottavo Cioè Io sono scioccato Veramente Da questo Giangiuberto Che schifo Guarda che schifo Di nome No Bu Puzza Giangiuberto No Basta Hashtag No Giangiuberto Nei commenti Mi raccomando Bravi Tunisiani Comunque Abbiamo finito Di fare l'esplorazione E di raccontare Cagate Grazie per aver Guardato Questo video Straordinariamente Bello Magnifico E simpatico Proprio Come me Scherzo Ovviamente Non sono Così tanto Vanitoso E quindi Direi Che se siete Arrivati Fino a questo Punto Del video Prima di tutto Siete bravissimi E vi darò Il cuoricino Nei commenti Se scriverete Mouse Eh Se scriverete Mouse Nei commenti Vi darò Il cuoricino Eh Bebebe Bello Mi raccomando Commentate A chiunque Commenterà qualcosa Anche se mettete Un emoji divertente Anche se mettete Una cacchetta A qualsiasi cosa Vi darò Il cuoricino A tutti E cercherò Anche di rispondermi Di rispondervi Se avrete qualche domanda E vi ricordo Che potete entrare Nel nostro mondo vanilla E giocare insieme Cioè In realtà il mio però Giocare insieme A noi Con i miei amici Insomma Vedere quello che costruiamo Eccetera Poi Se mi fiderò di voi Vi metterò anche in survival Però non sarete in survival All'inizio Perché mi dovrò fidare di voi Eh brutti Birbantoni Birbantelli Quindi ci vediamo Al prossimo video Dunisiani Ci vediamo Ciao 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 Ciao